I muri della cella erano nudi, tirati a calce. Un finestrino con sbarre di ferro era posto tanto in alto da non poterlo raggiungere e dava un po' di luce a quella stanzetta linda e sinistra. E il pazzo, seduto su una sedia impagliata, ci guardava fissamente col suo sguardo che era insieme vago e insistente. Era magrissimo, aveva le guance incavate e i capelli quasi bianchi, forse incanutiti in pochi mesi. Gli abiti parevano troppo larghi per le sue membra rinsecchite e il torace misero per il ventre rientrante. Si intuiva che quell'uomo era devastato, arroso da un pensiero che se lo divorava come un verme fa con un frutto. La sua follia, la sua idea fissa era là, in quella testa, ostinata, vessatrice, divorante. Gli mangiava il corpo a poco a poco. Invisibile, impalpabile, inafferrabile, immateriale. Quell'idea indeboliva la carne, beveva il sangue, spegneva la vita. Quale mistero, in quest'uomo ucciso da un sogno. Faceva pena, paura, pietà, quest'indemoniato. Quale sogno strano, orrifico e letale. Si nascondeva dietro quella fronte, segnandola di rughe profonde e sempre mobili. Il medico mi disse, è preda di tremendi eccessi di furore, è uno dei dementi più singolari che abbia mai veduto. Soffre per una malattia mentale, che è erotica e macabra, una specie di necrofilia. D'altra parte ha scritto un diario, che ci mostra in maniera lampante quale malattia gli offusca lo spirito. In questo diario la sua pazzia è, per così dire, palpabile. Se le interessa, può dargli un'occhiata. Seguì il dottore nel suo studio, ed egli mi consegnò il diario di quello sventurato. Legga, mi disse, poi mi dirà il suo parere. Ecco il contenuto del quaderno. Ho vissuto tranquillo sino all'età di 32 anni, senza amore. La vita mi appariva molto semplice, e bella e facile. Ero ricco. Le cose che mi interessavano erano tante, e non riuscivo ad appassionarmi a nessuna. Com'è bello vivere. Ogni giorno mi svegliavo felice, per far qualche cosa che mi piaceva, e andavo a letto soddisfatto, con la speranza tranquilla di un domani ed un futuro senza preoccupazioni. Avevo avuto qualche amante, senza che il mio cuore fosse mai stato sconvolto dal desiderio, o il mio animo tormentato dall'amore dopo il possesso. E' bello vivere così. Amare è una cosa diversa, forse migliore, ma anche terribile. E poi quelli che amano così, come se soliti amare, debbono provare una felicità ardente, ma probabilmente inferiore alla mia, perché l'amore è venuto a me in una maniera incredibile. Essendo ricco, ricercavo mobili antichi e oggetti d'antiquariato. Pensavo spesso alle mani sconosciute che avevano maneggiato queste cose, agli occhi che le avevano ammirate, ai cuori che le avevano amate, perché si può amare un oggetto. Rimanevo spesso per ore intere, ore e ore, a guardare un orologino del secolo scorso. Era così grazioso, così minuto, nelle sesellature d'oro e di smalto, e camminava ancora come il giorno in cui una donna lo aveva acquistato, felice di possedere quel gioiello. Non aveva cessato di palpitare, di vivere la sua meccanica, e da più di un secolo continuava il suo tic-tac regolare. Chi dunque l'aveva portato per prima sul seno, nel tepore delle stoffe, mentre il cuore dell'orologio batteva contro il cuore della donna? Quale mano l'aveva tenuto con la punta delle dita un po' calde? Quale mano l'aveva girato e rigirato, asciugando poi i pastorelli di porcellana appannati un istante dal madore della pelle? Quali occhi avevano spiato su quel quadrante istoriato l'ora attesa, l'ora del piacere, l'ora divina? Come avrei voluto conoscerla, vederla, la donna che aveva scelto per sé quell'oggetto raro e raffinato? È morta. Io sono ossessionato dal desiderio delle donne d'altra epoca. Amo, da lontano, tutte quelle che hanno amato. Il racconto di tenerezza avvenuta in passato mi riempie il cuore di rimpianti. Oh, la bellezza, i sorrisi, le inesperte carezze, le speranze. Non dovrebbero aver durato eterna queste cose? Per intere notti io pianto sulle povere dame d'un tempo, così belle e tenere e dolci, le cui braccia si aprivano per i baci e che sono morte. Il bacio invece è immortale. Passa da un labbro all'altro, da un secolo all'altro, da un'epoca all'altra. Gli uomini lo ricevono, lo restituiscono e muoiono. Il passato mi attrae. Il presente mi spaventa perché il futuro è la morte. Io rimpiango tutto quel che si è compiuto. Mi dispero per coloro che non vivono più. Vorrei fermare il tempo, fermare le ore. Ma esse procedono, procedono, passano, mi portano via di attimo in attimo una piccola parte di me, in vista del nulla di domani. E io non riviverò mai. Addio, donne di ieri. Io vamo. Ma non sono da compiangere. Io l'ho trovata con lei che aspettavo. E ho avuto da lei piaceri incredibili. In un attimo pieno di sole girovagavo per Parigi, l'anima lieta con agile passo, osservando col vago interesse dello sfaccendato ogni vetrina. D'improvviso scorsi nel negozio di un antiquario un mobile italiano del 600. Era veramente bello, veramente raro. L'attribuì a un artista veneziano che si chiamava Vitelli, celebre nella sua epoca. Proseguì perché il ricordo di quel mobile mi perseguitò con tanta forza da farmi tornare indietro. Mi fermai ancora davanti al negozio per rivederlo e sentii che mi tentava. La tentazione è uno stato d'animo ben singolare. Si guarda a un oggetto e questo a poco a poco vi seduce, vi turba, vi conquista come farebbe il volto di una donna. Il suo fascino vi prende, un fascino strano che emana dalla forma, dal colore, dalle linee. E già vi piace. Lo desiderate, lo volete assolutamente. Siete afferrati dalla voglia di possederlo. Un bisogno dolce da principio, quasi timido, ma che se cresce di continuo, sino a diventare violento, irresistibile. I commercianti sembrano indovinare dalla luce dello sguardo questa voglia segreta e crescente. Acquistai quel mobile e me lo feci portare subito a casa. Lo misi nella mia stanza. Oh, come compiango chi non conosce questa luna di miele del collezionista con l'oggetto appena acquistato. Lo carezziamo con l'occhio e con la mano, quasi fosse di carne. Ogni istante torniamo vicino a lui, pensiamo a lui dovunque andiamo, qualsiasi cosa facciamo. Il suo gradito ricordo ci segue per la strada, nei salotti, ovunque e quando rincasiamo. prima ancora di esserci tolti guanti e cappello andiamo a contemplarlo con la tenerezza di un innamorato. Dico la verità, per otto giorni ho adorato quel mobile. Ne aprivo continuamente le ante, i cassetti, lo palpavo in estasi, godendo tutte le intime gioie del possesso. Ebbene, una sera, mentre stavo tastando lo spessore di un pannello, mi accorsi che lì doveva esserci un ripostiglio segreto. Mi batteva il cuore. Passai la notte a cercare il segreto senza riuscire a scoprirlo. Mi riuscì il giorno dopo, insinuando una lama nella connessura. Vide che una tavoletta si spostava e, poggiata su un fondo di velluto nero, scorsi una stupenda chioma di donna. Una chioma, sì, una lunga treccia di capelli biondi, quasi fulvi, che erano stati recisi alla radice ed erano legati con un filo d'oro. Rimasi stupito, tremante, turbato. Un profumo appena avvertibile, tanto vecchio da sembrar l'anima d'un odore, alleggiava da quel cassetto misterioso e da quella sorprendente reliquia. La presi pian piano, quasi per un rito religioso, e la tirai fuori dal suo nascondiglio. Subito si sciolse, spandendo il suo fiotto dorato che cadde sino a terra, folto e leggero, morbido e luminoso come la coda di una cometa in fuoco. Fui preda ad una strana emozione. Di che si trattava? Quando, come e perché quei capelli erano stati chiusi nel mobile? Quale avventura, quale dramma erano nascosti in quel ricordo? Chi aveva reciso la chioma? Un amante il giorno dell'addio? Un marito il giorno della vendetta? Oppure la stessa dama che li aveva portati sulla fronte il giorno della disperazione? Forse, al momento di entrare in un convento, quella ricchezza d'amore era stata riposta come un pegno lasciato al mondo dei vivi. O forse, al momento di chiudere nella tomba la giovane e bella defunta, l'uomo che l'adorava aveva voluto l'ornamento della sua testa, la sola cosa che potesse conservare di lei, la sola parte vivente del suo corpo che non doveva imputridire, la sola che gli potesse ancora amare e accarezzare e baciare nelle sue crisi di disperazione. Non era strano che quella chioma fosse restata così mentre non rimaneva neppure una particella del corpo da cui era nata. Mi scivolava fra le dita, mi fellicava la pelle con una carezza suggestiva, una carezza di morta. Ero intenerito come se stessi per piangere. La tenne a lungo, assai a lungo tra le mani. Poi mi parve che la chioma si muovesse come se dentro vi fosse rimasto un frammento d'anima. La posai di nuovo sul velluto spiadito dal tempo e spinsi il cassetto e richiusi il mobile e andai in strada per poter sognare. Camminavo senza meta, triste e turbato di quel turbamento che resta nel cuore dopo un bacio d'amore. Mi sembrava di aver già vissuto in passato, di aver dovuto riconoscere quella donna e così mi vennero alle labbra come vi sale un singhiozzo. Ditemi dove, in quale paese, ecco che parla quando si fa rumore, perfiume o in uno stagno, che ebbe bellezza assai più che umana. ma dove sono le nevi dell'altranno la regina bianca come Giglio che cantava con voce di sirena Berta dal Gran Pie Beatrice Alice e Giovanna la buona Lorenese che gli inglesi bruciarono a Guam. Dove sono? Dove? Vergine sovrana ma dove sono le nevi dell'altranno? Tornai a casa e provai un irresistibile desiderio di rivedere il mio tesoro. La riprese in mano e toccandola fui percorso da un brivido in tutto il corpo. Tuttavia per qualche giorno rimasi tranquillo anche se il pungente pensiero della chioma non mi lasciava più. Appena rincasavo bisognava che la vedessi e la carezzassi. Girava già la chiave del mobile con lo stesso fremito che si prova quando si apre la porta alla donna amata poiché nelle mani e nel cuore c'era un bisogno acuto singolare continuo sensuale di tuffare le dita in quell'incantevole ruscello di capelli morti. Poi quando avevo finito di accarezzarla quando avevo chiuso il mobile la sentivo sempre lì quasi fosse stata un essere vivente nascosto prigioniero la sentivo e la desideravo ancora provavo il bisogno imperioso di riprenderla di accarezzarla di snervarmi fino alla sofferenza con quel contatto freddo sfuggente irritante sconvolgente delizioso visse così un mese o due non so più quella che oma mi ossessionava mi stregava ero felice e tormentato come in un'attesa d'amore come dopo le confessioni che precedono l'amplesso mi chiudevo solo con essa per sentirmela sull'epidermide per sprofondarvi le labbra per baciarla per morderla me la arrotolavo intorno al volto la bevevo annegavo i miei occhi nella sua onda dorata per vedere la luce bionda attraverso di essa l'amavo sì l'amavo non potevo farne a meno e rimanere un'ora senza vederla aspettavo aspettavo che cosa non lo sapevo lei una notte mi svegliai bruscamente con la sensazione di non essere solo nella mia camera eppure ero solo ma non poteri addormentarmi e siccome mi agitavo in una febbre di insonnia mi alzai per andare a toccare la chioma essa mi parve più morbida del solito più animata tornano i morti i baci quei quali la riscaldavo mi facevano svenire di felicità me la portai in letto e mi coricai premendola sulle labbra come un amante che si sta per possedere i morti ritornano e l'è venuta sì l'ho veduta l'ho temuta l'ho avuta qual era viva un tempo alta bionda carnosa coi seni freddi l'anca in forma di lira e ho percorso con le mie carezze quella linea ondulante e divina che va dalla gola ai piedi seguendo tutte le curve della carne sì l'ho avuta tutti i giorni tutte le notti è tornata lei la morta la bella morta l'adorabile la misteriosa l'ignota tutte le notti la mia felicità era così grande che non seppi nasconderla l'amavo al punto da non riuscire a staccarmi da lei l'ho portata sempre con me ovunque l'ho fatta passeggiare per la città come se fosse mia moglie e l'ho portata a teatro in un palco molto riservato come se fosse la mia amante ma qualcuno l'ha veduta hanno capito tutto me l'hanno tolta e poi mi hanno rinchiuso in questa prigione come un malfattore me l'hanno presa povero me il manoscritto si fermava a questo punto ed improvviso mentre guardavo il medico con occhi sgomenti un grido spaventoso un urlo di furore impotente e di desiderio esasperato risuonò nel manicomio il dottore disse lo sente dobbiamo fargli la doccia cinque volte al giorno a quel pazzo erotomane non c'è soltanto il sergente Bertrand che abbia amato i morti sconvolto dalla sorpresa dall'orrore e dalla pietà sussurrai ma quella chioma esisteva veramente il medico si alzò aprì una baccheca piena di fiale e di apparecchi di medicina e mi gettò attraverso lo studio una lunga matassa di capelli biondi che volò verso di me come un uccello tutto d'oro fremetti anch'io sentendo sulle mani quella carezza leggera e rimasi lì col cuore palpitante di disgusto per il contatto con un oggetto in qualche modo legato a un crimine ma anche preso dal desiderio per una tentazione infame e misteriosa il medico concluse stringendosi nelle spalle la mente umana è capace di tutto l'uccello